è valida. Vediamo le posizioni, dovrebbe essere North Book se non mi sbaglio dalla frontale, è così al comando però subito rimontato da Nadal WF, all'esterno c'è il numero 4 di Ok Benedetta a cercare fortuna, mentre terzo in corda è No Limit Texas davanti al numero 6 di Yagobi, poi è partito molto bene anche il numero 10 di Love the Children, nel gruppo è lungo, Noscito Vita è penultimo davanti a Nicky Vanna, Nadal WF dopo 500 metri in 36,3, si va forte, Batistada su North Book, mentre Ok Benedetta sta regredendo, No Limit Texas terzo in corda, Yagobi, poi Love the Children, dalle retrovie si muovono in coppia, numero dei sogni che è partito male in anticipo su Moscito Vita. Cavalli che adesso dopo 700 metri transitano per la prima volta di fronte alle tribune, con la mossa di numero dei sogni che vuole recuperare a largo presto, 16-1 per questo paletto, al comando Nadal WF, Ok Benedetta allunga Nadal, 15-6 per questo paletto, rendendo dura la vita a chi gira all'esterno, ha spostato anche Love the Children in anticipo su Moscito Vita, Nadal adesso attacca gli 800 finali con un altro paletto in 15,5, mentre il numero dei sogni ha problemi definitivi e indietreggia. Nadal WF davanti al North Book, No Limit Texas, adesso in terza ruota è la volta del numero 10 di Love the Children, un altro paletto 15,4, costante il ritmo imposto dalla Battistada Nadal WF, con Dario Battistini che la frusta indietro e guarda fisso in avanti, non si scompone, Nord Book è sempre lì sotto, davanti al No Limit Texas, il 15 stampato davanti alle tribune non ammette per il momento nessuna interferenza alla corsa di testa di Nadal WF che però adesso è un po' richiesto, Nord Book anche viene stappato, sposta il numero 2 No Limit che poi si ributta all'interno dopo la curva in 15, Nadal WF al comando su Nord Book, No Limit Texas e Iago B, Nadal WF a centro dal palo e Battistrada, Nadal WF in questa categoria non può perdere, va a vincere nei confronti di No Limit Texas che rimonta probabilmente Nord Book. 29,9 a chiudere, ritmo costante dopo l'ottima partenza per Nadal WF che non fa soffrire mai chi lo ha appoggiato al betting, una categoria in mano, rientro discreto, oggi in progresso, Dario Battistini non lo tocca mai con la frusta, vince proprio facile, Nadal ha la quota di 3,22 per il secondo, vedete che all'interno No Limit Texas probabilmente rimonta, Nord Book è tutto per l'ultima corsa e per le corse del San Paolo, per quanto riguarda le altre giornate di corse ci vediamo martedì alle ore 15, è tutto, buona serata a tutti, buona domenica.